Se il sindaco del capoluogo di regione Pierluigi Biondi, seppur molto più prudente rispetto ad altri ieri dopo la riunione in prefettura, aveva affermato a chiare note che il pericolo di chiusura del traforo sembrava ormai scongiurato, i giorni passano e non c'è nessuna ufficialità sulla non chiusura, tant'è che Strada dei Parchi si affretta a dire che non ha revocato la decisione di chiusura del traforo perché a loro giudizio non è stato ancora risolto il nodo delle responsabilità in ordine ai rischi di inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso con le gallerie aperte al traffico. Non c'è ancora intesa, scrivono, su come si possa sollevare la società dal rischio di reiterazione del reato. Questo è quanto da parte della concessionaria delle autostrade a 24 e a 25, mentre il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, è corso in fretta e furia a Teramo in mattinata per un incontro sempre sul traforo, mentre l'assise civica aquilana si è riunita in un consiglio comunale straordinario su questo argomento. Posto che non c'è l'ufficialità, e questo è il problema, il vero problema, non c'è l'ufficialità e noi vogliamo che ci sia l'ufficialità e quindi abbiamo fatto questo consiglio comunale perché con le ipotesi non si va da nessuna parte. Può bastare assolutamente un intervento tampone, noi ipotizziamo in questo consiglio comunale il raggiungimento di un accordo tra il MIT e la Strada dei Parchi e speriamo che si raggiunga presto questo accordo perché non possiamo aspettare, la città non può aspettare perché praticamente non si può vivere in questo stato di incertezza. I cittadini che peraltro parcano un pedaggio esoso rispetto a quello di tutte le altre autostrade proprio perché c'è questo problema della messa in sicurezza. Se poi praticamente qualcuno certifica che questa sicurezza non c'è allora dobbiamo anche rivedere questi pedaggi. Anche secondo il presidente del consiglio comunale Roberto Tinari le dichiarazioni di intenti per mettere in atto una serie di misure condivise non basta e non placa assolutamente le preoccupazioni. L'isolamento per le aree interne che deriverebbe dalla chiusura del traforo non è accettabile per il presidente del consiglio comunale dell'Aquila che rimanda alle responsabilità e alle manchevolezze di chi a suo giudizio ha parlato di una situazione di rischio con colpevole ritardo. Ora con queste incertezze e preoccupazioni si chiede pure di rivedere tutti i pedaggi autostradali, secondo Tinari. La Sise si è impegnata comunque con un ordine del giorno che impegni la regione Abruzzo ad attuare ogni misura utile auspicando pure che venga affrontato con determinazione il problema dei costi sociali ed economici dei pedaggi autostradali.